Assessore, in arrivo una nuova rivoluzione al traffico verso il Poeto, tre nuove rotatorie, dove sorgeranno? Le rotatorie sono state discusse in Commissione Trasporti come una ipotesi che deve essere trasformata in progetto per portare risposte al quartiere del Poeto ma anche al quartiere della Paz. La posizione di queste nuove rotatorie si sta studiando in via dei Tritoni alla confluenza con Piale Poeto nella traversa che porta allo stabilimento del Gattila e in prossimità della chiesetta del Poeto la confluenza con via Ausonia e lungomare Salini, in questa posizione. Questo permetterebbe di togliere tutti i semafori e rappresenterebbe anche il presupporto per eliminare il semaforo di via Vergine di Lutto. Questo si rende possibile anche perché l'accesso al quartiere verrà a breve risolto tramite una rotatoria dell'asse mediano in questa posizione. Quindi tutti i flussi di traffico provenienti dall'asse mediano potranno accedere al quartiere direttamente dall'asse mediano. E questo completa il disegno delle tre rotatorie, San Bartolomeo, Piazza Amsicola e asse mediano, che ha dato delle risposte importanti in termini di fluidità del traffico e sicurezza. La stessa cosa ci predisponiamo a fare sull'altro fronte, via dei Pittoni, traversa d'Aquila e via Ausonia, su lungomare Salini, anche per risolvere problemi di grave insicurezza che hanno caratterizzato lungomare Salini. Questo permetterà una grande opportunità per il trasporto pubblico perché, ad esempio, la fermata del numero 3 che trasporta molti ragazzi anche durante l'estate rivolti verso il Poeto, potrà, in capolinea, essere spostato verso Marina Piccola perché la presenza di un eventuale rotatore in questa posizione consentirà, con un bellissimo percorso, di portare tantissime persone direttamente a Marina Piccola. Ricordiamo che la minata è tra taglia in due la città, mentre tutte le altre linee che servono e poi partono da Piazza Matteotti e questo permetterà un ulteriore alleggerimento anche del traffico. Quindi da via Roma al Poeto si piacerà tra rotatorie. Da via Roma direi di più, tra Piazza Matteotti fino ad arrivare al margine rosso ci sarà un sistema di rotatorie tra quelle della provincia, quelle di Quarto e quelle di Caglia.